Questo video non vi piacerà, non vi piacerà perché in questo video non giochiamo a Destiny, bensì giochiamo ad Apex, però fermi, non scappate a questa magica parola, perché vi tengo 30 secondi attaccati allo schermo ad ascoltare me che chiacchiero, essenzialmente per dirvi che questo è l'unico video che vedrete sul canale riguardante Apex. Apex diciamo che è il nuovo Fortnite ma è un gioco secondo me molto più sano di Fortnite, è un gioco a cui stiamo giocando parecchio e a cui devo dire che non siamo nemmeno per niente male, dato che abbiamo raggiunto i 30 secondi quindi in breve vi dico solamente che questo è l'unico video che vedete sul canale di Apex, quindi vi chiedo il piccolo sforzo di guardarlo, magari anche non tutto, guardatelo un pezzo finché proprio non riuscite a seguirlo più e questo serve perché abbiamo intenzione di portare Apex semplicemente la sera durante le live, infatti ci saranno live quasi tutte le sere da oggi in poi e una gran parte potrebbero essere su Apex, quindi grazie, fate questo piccolo sforzo e grazie ancora per aver seguito questa fantastica introduzione. hey, no andiamo un muo un muo un pochino di ammattere un posto pubblico e noi erano a noi non c'è se si perdesse a marco che vediamo a te c'è un tipo la teglia non ammazzano arrivo faccio io un uomo da teglia scappa 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 2 tv tv pari ora che faccio il tiro dove stanno finire dove stanno oh sono morti ma va fanculo pensavo fossero vivi qui c'è la gente che si sparava ac per bacco aspetta chi le aveva chieste le munizioni prima di dire che sono una persona orribile meglio chiedere a chi è che servono le demo il tipo e tengo per quando troppo la carabina guarda che gli altri stanno qua ecco la carabina venite a prendere tommy aspetta lo spittifire aspetta c'è c'è gente infatti cazzo si arrampichi c'è cazzo 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 i contact ah è vero Sei zitto E' qua dentro, qua dentro Ah, joked E' sopra Cercando di restare il suo mito Dai sei un pezzo di merda Sei un pezzo di merda Ti prendi delle tue di kill? Io ho fatto tantissimo Ma che gli hai fatto? Gli stavo sparando una mezz'ora Ti giuro, io ho fatto 45 Ma vaffanculo Oh, cazzo, mi minchia No, io ho tolto lo scuro e gli ho fatto 45 Ma che tu ho tolto? Gli stavo sparando mezz'ora io Ma è una colpa mia Sta wingman è troppo forte con sta skin Weee Come on The ring is around the corner Around the corner Around the corner Six and a half hours later The ring is around the corner Bellissimo . Phy Severe Ma io ho posto Kum Lo stagè che il cittore . . Crime siello No, ora stiliamo in senso di soppostare E' un fortabile I said portal He said portal E' molto sad il portal The fighting range Ma adesso si spara no mica quanto casino stanno fa Ah qui qui Eh no niente niente me lo deve rubare Madonna madonna Chi spari? Allora mi state rompendo il cazzo Tra voi e gli avversari non so chi mi sta rubando più kill Se questo me l'ho ammazzato io Eh no eh no eh no Oh porca miseria che botta Oh ma di che cazzo mi spara? Eh niente no niente niente Mi lascio tutti in one shot Quante kill c'hai? Una Una E' tipo 22.000 Quante ce n'avrà il tipo? Serio Troppe Mo se questo mi ammazza mi incazzo No 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 mi sto incazzando Tipo tipo Vaffanculo Ti pare normale? E' qua 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 Eh aspetta me devo cura Sperata Eh niente no io ho niente Oh c'è un'altra no c'è un'altra Bancla esce Arrivo 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 Con l'alte aiuto vi spiegarlo No eh c'è un fumo Ah c'è un fuoco Resta E' da sé un'altra Un'altra Lecola Troppo Ci vado gu Nah E' da sé un'altra Ah ah Ci vorrei poi vediamo i danni, poi vediamo i danni cazzo cazzo granata fa il culo ok adesso ci pusceranno la vita, lo sai oh hai rotto un po' il cazzo però hai tra tutti non c'ho manco la vita per curarmi no tommy scendi e resta no aspetta questo mi stava uccidendo con un pompa questo se permetti ho dovuto eh ora vieni a restare ho facciato una granata lì ti giuro io ho ancora dal fight quello prima 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 che non mi son curato eh aspetta aspetta curati che ci vediamo di te sono andato a un ferry il drone, sono andato a un ferry si vorrei andare aiutarlo ma non so uscire ok ne ho ucciso uno come 3 kg ho alterato uno scusa ah lasso dire rings nearby e sta calmi no io c'ho 5 kg tu 2 3 3 ok per favore eh che tipo ce ne avrà a occhio o 8? a occhio a occhio ok ok finiamolo ti ho uccisi questi due sicuro ma nascutino ne abbiamo ecco no c'è un cacchione no no non sei capace ma sto zitto ci ho fatto 5 kg l'altra volta c'è un cacchione c'è un cacchione c'è un cacchione ma vabbè più lontana no ehm con cecchione lo visti ehm con cecchione lo visti l'altro è da solo il nostro tipo funziona il gioco grazie gatti son forte l'ho ucciso l'ho ucciso arrampiti come si sale così chi è che diceva join the squad no entrate nella squad dai che c'ho il super sniper fortissimo se li vedo gli spacco il muso tutti lo sai ancora? no versano pure caffè da qua no volevo fare la scimmia musulmana ma il tipo dovrebbe mettere tipo un portale sopra uno sotto bravo se ne ho porto anche a furbo l'ha messo sotto bravo amico eh si però si arrivano qua e 5 tutta la famiglia si ho capito ma dove stanno sti scimmioni ma ho sei felato in mezzo al niente quindi se loro ci vanno sarà uno scusa 5 chi quando cazzo l'ho fatto io ero un mosto 3 beh andiamo in sef ci teniamo da sef tanto arriverà voglio dire boh arriveranno si arriverà la squadra eccolo non ci credo lo sappiamo che sei down l'abbiamo visto cazzo granata di merda ho buttato giù la porta sono fortissimo l'abbiamo chiusi che mostri raga che mostri ah tu stai sparando qualcuno ah vediamo che aveva fatto tu ah è stata bellissima io sei credo questo l'ho ucciso da dietro ma l'ho proprio visto che ho fatto l'altro è stato abbia fatto la stessa cosa quello che aspettava me e quello che l'altro che aspettava te oh 22 uccisioni di squadra un terzo della lobby abbiamo fatto e guarda i miei danni abbiamo fatto più di un terzo della lobby eh eh pauroso eh si eh guarda i danni guarda i danni eh che vuoi ho fatto 700 dag tag io sono Gaud e la tua luce è mia